Le vie del risparmio sono infinite e trovano uno sbocco naturale sui media. Stavolta vi parlerò alcuni programmi TV e alcuni canali YouTube dedicati a questo tema, con consigli, idee e un piccolo viaggio nel risparmio estremo. Pazzi per la spesa ovvero i reality al tempo della crisi. Realtime trasmette la gara tra 12 risparmiatori incalliti che devono spendere 500 dollari in 30 minuti cercando di spuntare i migliori affari possibili. In fin dei conti il risparmio è una gara quotidiana con se stessi per ottenere la massima resa con la minima spesa. Non a caso questo è il motto del programma. L'arte del risparmio è il canale YouTube di Polimnia88 ed è interamente dedicato al risparmio sui prodotti cosmetici. Lei non mostra mai il viso, ma con i suoi video segnala le aziende che forniscono campioncini gratuiti con tutte le informazioni per ottenerli contattando direttamente i brand. Indica le promozioni in corso su determinati prodotti oppure gli omaggi inseriti nelle riviste e mette in guardia da eventuali truffe. Occhio TV canale YouTube figlio della trasmissione Rai Occhio alla spesa, ormai chiusa da un po'. Il protagonista dei video è sempre lui, quell'Alessandro Di Pietro che dispensava consigli utili sulla spesa in televisione e adesso riproduce i suoi suggerimenti sul web. Ma in questo caso per correttezza non ometto le polemiche attorno a questo personaggio di recente licenziato dalla Rai con l'accusa di aver fatto pubblicità occulta durante le sue trasmissioni. Di Pietro si difende affermando di non aver mai favorito dei brand. Altro consumo test di laboratorio, confronto dei prezzi, impatto ambientale dei prodotti. Questi alcuni dei temi trattati sul canale YouTube di Altro Consumo, una delle principali associazioni dei consumatori del nostro paese. Malati di risparmio qui siamo al patologico, ma mi divertiva fare questa segnalazione. Malati di risparmio è un programma in onda su Real Time che mostra le estreme conseguenze della ricerca del risparmio a tutti i costi. Le idee dei protagonisti sono spesso più disgustose che geniali, ma non si sa mai che qualcuno riesca a prendere spunto anche dall'orrido. Per i non amanti della TV c'è sempre il nostro blog dove poter leggere, trovare idee utile per risparmiare. Se poi siete pronti per lo step investimento, non dimenticatevi monifarm.com